voglio ricordare tutti gli esperimenti che hanno fatto su di me il 10 febbraio del 2001 durante l'anomalo fermo delle cavie umane sottoposte a ipnosi neurale attraverso un collegamento in elettroencefalografo transclanico sperimentale una settimana prima del 10 febbraio del 2001 successe una cosa molto anomala non riusciva a dormire durante la notte e come se utilizzavano un sistema di risveglio attraverso le frequenze transclaniche e tutto questo prima del 10 febbraio del 2001 le manipolazioni diventavano sempre più forti lo stato ipnotico e narcoletico diventava sempre più forte e le radiazioni intorno al mio corpo venivano aumentate per vedere se le mie frequenze ipnotiche cerebrali e le mie frequenze dei blocchi detutivi e dei blocchi di ragionamento facevano sì che la sperimentazione e il collaudo dei satelli di spia in tecnologia transclanica attraverso scansione sintetica a raggi x e attraverso analisi neurale diretta che doveva manipolare il mio cervello il cervello della persona che mi stava vicino e il cervello della persona che è stata fermata insieme a me ma nello stesso tempo la sperimentazione con l'auto doveva anche pilotare in stato ipnotico anche la gendarmeria che è intervenuta il 10 febbraio del 2001 la mattina del 10 febbraio del 2001 mi alzo e vado a fare la spesa con mia madre premetto che stavo davanti a un posto che se io veramente volevo andare a prendere una sostanza stupacente mi bastava solamente fermarmi vicino a un cancello di questo posto però in questo posto stavano facendo anche lì un esperimento per il controllo della mente a distanza attraverso antenne a ripetitori gps antenna ripetitori gsm antenna ripetitori tax che manipolavano la mente di queste persone perché era un residence dove tenevano le persone disagiate le persone senza detto le persone tossicodipendenti invece qualcuno attraverso il controllo della mente a distanza ha fatto sì che io dovevo telefonare a forza a una persona che stava 40 chilometri fuori roma ma che cosa mi serve una persona che sta 40 chilometri fuori roma se io potevo avvicinarmi a un cancello cacciare fuori 100 mila lire e prendere qualunque sostanza stupacente invece la gendarmeria che stava facendo l'esperimento per l'attestazione del collaudo del satellite spia aveva già coordinato una sorta di collaudo simulato e pilotato che doveva pilotare delle persone innocenti ad incontrarsi a forza sia attraverso una manipolazione deduttiva cerebrale sia attraverso le frequenze del desiderio sia attraverso le frequenze della manipolazione del ragionamento sia attraverso le frequenze della dipendenza della sostanza stupacente prenetto e la persona che arrivata a questo appuntamento non dormiva da tre notti era sottoposta a torture frequenze ipnotiche e gravissime patologie fisiche allora che cosa succede a un certo punto mi incominciano a mettere le frequenze della dipendenza le radiazioni fisiche e psicologiche e le frequenze deduttive a pensare a telefonare a questa persona 59 di Roma io telefono a questa persona su ogni telefonata aumentavano le frequenze delle radiazioni transoniche all'interno dei condotti di divi con vibrazioni effetti di risonanza utitiva sia attraverso l'effetto larsen e attraverso l'effetto joule all'interno del telefono e io dicevo ma com'è possibile che quando mi avvicino al telefono si surriscalda il cervello e sento delle fortissime radiazioni all'interno dei centri nervosi quello era l'esperimento per creare l'ipnosi attraverso il sistema uditivo e attraverso il sistema cerebrale la cosa strana dopo che ci hanno fermato la gendarmeria la gendarmeria sapeva tutto quello che avevamo fatto e addirittura sapeva che un'altra terza persona era andata la mattina a prendere dei soldi al bancomat che non lo sapevo neanche io che stavo lì davanti a questa persona quindi la simulazione del collauto del satellite spia sperimentale era già stata effettuata attraverso dei collegamenti antecedenti alle settimane prima del 10 febbraio del 2001 quindi eravamo diventati dei zombie manciuliani radio pilotati a distanza per commettere una sorta di reato simulato attraverso una sperimentazione di tecnologia satellitare che ci doveva per forza pilotare arriviamo all'appuntamento ci fermiamo a parlare le frequenze ipnotiche i blocchi visivi i blocchi celebrati flash di luce all'interno degli occhi blocco dedutivo il rallentamento del ragionamento a un certo punto a distanza vedo delle macchine contro mano che bloccano la strada era la gendarmeria scendono tutti quanti dalle macchine pistole spianate io stavo sul mio motorino tutto rotto e dietro di me c'era c'era un mio amico scendono che cosa avete fatto che cosa avete preso che cosa vi hanno dato io ho sentito tutto ho visto tutto dai cacciate fuori tutto io che stavo là di fronte non avevo visto niente non avevo sentito niente vuol dire che qualcuno con i satelli di spia aveva avvisato o aveva detto alla gendarmeria che stava avvenendo qualcosa di anomalo e fino a lì la situazione rimane anomala come faceva a sapere la gendarmeria che una terza persona aveva appoggiato vicino al motorino una sostanza stupefacente non lo sapevo io che era il proprietario dello scooter perché in comunicazione tetra o in comunicazione telepatica sono stati avvisati perché vedevano con i sistemi satellitari con la sperimentazione attraverso la manipulazione neurale anche della gendarmeria stessa tutto quello che accadeva attraverso telecamera a scansione sintetica perché era stato tutto preparato con l'auto a tavolino e saprevano ogni tipo di situazione che doveva essere modificata ogni tipo di ragionamento che doveva essere ricreato il simulato per creare una simulazione di reato che doveva finire con un collaudo esemplare di una tecnologia satellitare che sarebbe costata e che è costata allo stato italiano le forze armate 11 miliardi e 700 milioni di euro allora che cosa succede? vediamo fermati questa persona che viene fermata stava sotto stato di torture neurali attraverso frequenze ipnotiche dirette nel cervello lo prendono e lo portano a fare una perquisizione pensa che dentro casa lui si dimenticava le cose, si dimenticava le chiave, si dimenticava le luci accese, si dimenticava la radio non si ricordava più niente perché l'esperimentazione al collaudo è proprio questo creare un blocco cerebrale, un blocco narcolerico, un blocco ipnotico e costringe le persone ad una dipendenza, ad una deduzione cerebrale errata, a delle frequenze della depressione proprio per portare alla destabilizzazione dei centri nervosi proprio del sistema Manchuyan Candidate quando ci portano alla caserma della gendarmeria sembrava come se il sistema satellitare gestisse le parole dei gendarmi e come se il sistema satellitare gestiva anche le nostre frequenze, le nostre sensazioni quello era proprio un collaudo di una tecnologia satellitare è come se stavamo in terapia intensiva tutti sia noi che la gendarmeria e venivamo pilotati tutti in tempo reale, ma nessuno si accorgeva di niente mi ricordo perfettamente che c'era un sotto ufficiale come se veniva incitato a darmi uno schiaffo a un certo punto per tre volte questa persona si è diretta verso di me con un modo molto minaccioso e a un certo punto di soprassalto io stavo girato e mi è arrivato uno schiaffo da dietro e mi hanno detto che loro sapevano tutto e che loro avevano visto tutto e che io non potevo negare quello che era successo loro la gendarmeria non aveva visto niente perché i coordinatori satellitari avevano visto se era veramente successo qualcosa ma mi pare che non è successo niente i coordinatori satellitari che stavano effettuando gli esperimenti sulla gendarmeria non gliel'hanno detto alla gendarmeria che stavano collaudando i satelliti anche sulla gendarmeria stessa e perché sapeva la gendarmeria che quella persona che sta affiancamente al tossico dipendente come facevano a saperlo? perché il satellite spia che simulava le frequenze della depressione e della dipendenza veniva immesso all'interno del cervello di quella persona innocente che veniva a pilotare la pancia uriancanti dal tossico dipendente con le simulazioni delle patologie dell'eroina me l'hanno fatto anche a me, me l'hanno fatto lo stesso esperimento facevano credere che io ero un tossico dipendente d'eroina hanno detto ma io non so neanche come è fatta l'eroina dopo che è finita la giornata che mi stavano facendo filmare dei fogli che io non ritenevo che erano fogli idonei o benitieri dell'accaduto perché ovviamente se vengo pilotato dal satellite spia non posso dichiarare io sto lì a fare un'altra cosa quando chi sentiva e chi vedeva tutto l'h2 e chi ha pilotato l'esperimento militare del 10 ebbraio del 2001 sapeva perfettamente che noi non eravamo né tossico dipendenti non eravamo assolutamente niente ma l'esperimento viene fatto apposta su queste persone che non sono niente perché se l'esperimento va male perché loro giustificano la situazione come un errore giudiziario capito? tanto poi iniziano i lavaggi nel cervello iniziano le torture iniziano le manipolazioni cerebrali e le persone innocenti diventano pazzi le schizofrenici, le malati, le mente e poi si suicidano come volevano far credere quando mi hanno messo le torture le frequenze delle manipolazioni le frequenze indotte le frequenze dirette nel cervello pensate che dopo il 10 febbraio del 2001 io camminavo per strada mi si spingevano i lampioni dove camminavo? io dicevo ma com'è possibile scusa la cosa del genere? pensavo che era un sistema di investigazione un'intercettazione ambientale un'intercettazione telefonica e invece no volevano far credere che io ero un pazzo perché avevo capito che c'era qualcosa che non quadrava e che avevo capito che quella non era un'indagine ma anche in me era un esperimento per il controllo della mente a distanza ma io non ci sono cascata a questo giochetto perché ho detto scusa ma se io non sono tossicodipendente come faccio ad avere la dipendenza delle sostanze superfacenti? io non sono esaurito come faccio ad avere tutte le patologie dell'esaurimento nervoso? quindi la gendarmeria che ha usato i satelliti sono coordinatori e che stavano sperimentando attraverso i coordinatori della legione Lazio i coordinatori nazionali dei satelliti sperimentali che dovevano essere venduti a forza o illegalmente o attraverso una truffa ai danni dello Stato truffa ai danni delle forze armate per prendere a forza dei sistemi satellitari che non funzionavano ed è per questo che le sperimentazioni le fanno sulle provere persone è per questo che le sperimentazioni le fanno sulle persone innocenti e dopo ho incominciato a conoscere delle persone tramite internet che avevano tutti gli stessi problemi e ho detto ma te sei stato mai fermato da sta gendarmeria? ma te? no io stavo tranquillo dentro casa mi sentivo parlare in testa quell'altro ma te che cosa hai fatto? ah io stavo al mare con i miei parenti boom in testa radiazioni, bruciori, gravi patologie la signora? ma lei signora che cosa ha avuto? e io stavo a casa a un certo punto ho cominciato a sentire le voce a un certo punto ho cominciato a vedere dei palestri a un certo punto ho cominciato ad avere delle gravi patologie sono andato al pronto soccorso e mi hanno preso per una pazza per una schizofrenica siccome questi avvenimenti succedono in molte parti d'Italia e su molte persone che non sono sottoposte ad indagini ma che sono capi umane consapevoli e lì ho capito perfettamente che il 10 febbraio del 2001 stavano collaudando su delle camie umane questa tecnologia non serve per aiutare la giustizia a sventare gli attentati di Falcone e Borsellino o a ritrovare l'onorato onorevole Aldomoro o a sventare attentati come è successo davanti al Parlamento che una persona dettasi un malato di mente per me quello era un manciuliano pilotato a forza sparare addosso a quei nuovi carabinieri, poliziotti e finanzieri qual è la vera giustizia? qual è la vera criminalità organizzata? un saluto a tutti amici di Emiliano Papilloni grazie a tutti